buonissimi amici fratelli pace del signore buona giornata a tutti quanti oggi è 7 febbraio e domenica sono le 7 del mattino e leggeremo nel vangelo di giovanni capitolo 6 versi da 22 fino a 35 sono dei versi molto belli dove gesù si presenta come il pane della vita abbiamo visto l'altro ieri come gesù era montato sulla barca mentre i discepoli stavano attraversando il mare gesù li aveva raggiunti camminando sulle acque poi dopo averli rassicurati era montato con loro sulla barca le persone che avevano mangiato grazie al miracolo di gesù andarono alla ricerca del signore siccome non lo trovarono andarono dalla parte opposta e quando lo incontrarono gli chiesero quando era arrivato in quel posto e il signore che conosceva bene i segreti del cuore di quelle persone disse io vi dico in verità che non mi cercate per quello che io sono ma mi cercate semplicemente perché avete mangiato e avete in quel vostro l'idea che seguendo me avete risolto il vostro problema alimentare quotidiano quanto è triste tutto questo ora facciamo una premessa importante il signore è interessato ai bisogni dell'uomo e questo è dimostrato dal fatto che fu lui a prendere l'iniziativa affinché quelle persone fossero sfamate lui è interessato al fatto che noi abbiamo il necessario per la nostra vita e questo in quanto egli ci ha formati in quanto egli è stato per un tempo un uomo come noi e quindi ha vissuto le nostre stesse limitazioni e capisce a maggior ragione quelle che sono le necessità quotidiane di ogni persona e quindi dio non disdegna la nostra preghiera nella quale noi chiediamo il necessario anzi nel parre nostro che un modello di preghiera c'è proprio riportato questo insegnamento tra le richieste c'è il dacci oggi il nostro pane quotidiano il signore disse infatti che non dovremmo preoccuparci di che mangiamo di che ci vestiamo perché egli provvede ai gigli della valla gli uccelli del cielo e a maggior ragione provvederà al bisogno di ognuno di noi quello che gesù vuole dire in questo passo e quello che poi è il messaggio biblico in generale è che questo non dovrebbe essere l'ossessione della nostra vita ma dovremmo prima di tutto e innanzitutto cercare il regno di dio la sua giustizia perché per il resto il signore provvederà e in questo passo gesù sta dicendo proprio questo voi sbagliate priorità nella vostra vita voi non dovreste cercarmi semplicemente perché vi do di che mangiare ma mi dovreste cercare innanzitutto per ricevere il bisogno più importante della vostra vita vale a dire il cibo spirituale quello che porta in voi vita e vita eterna e gesù infatti dice se voi siete alla ricerca di questo sappiate che io sono il pane della vita io sono quello che può soddisfare il bisogno dell'anima vostra sono quello che può cibare il vostro spirito e che può dare un senso alla vostra esistenza se state cercando questo eccomi qua ma se voi siete alla ricerca di altro inutile che venite dietro a me e questo è un insegnamento un monito per ognuno di noi ancora oggi alcune persone decidono di seguire il signore perché sperano che il signore risolverà tutti i loro problemi non sono interessati alla vita eterna sono interessati a godere su questa terra dei beni e avere qualcuno a fianco a loro che gli risolva i problemi poi della vita eterna proprio non sono interessati queste persone stanno sbagliando non perché dio non voglia aiutarli nei loro problemi ma perché prima dovrebbero cercare il signore per avere salvezza e poi per tutto quanto il resto e dio ci aiuti ad avere questo tipo di atteggiamento nel nostro rapporto con dio noi non dobbiamo andare al signore solo ed esclusivamente quando siamo nei problemi e nei guai ma noi dobbiamo cercarlo ogni giorno perché appunto siamo interessati prima di tutto e sopra di tutto alla salvezza dell'anima nostra è importante questo cari fratelli care sorelle e amici cari è importante perché da questo dipende il nostro destino eterno fatemi usare questa espressione forse infelice dipende cioè dove noi trascorreremo l'eternità ecco perché gesù disse a quelle persone che andavano dietro a lui adoperatevi verso 27 non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà essi dunque gli dissero che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di dio e gesù gli disse questa è l'opera di dio che crediate in colui che egli ha mandato fratelli sorelle dobbiamo innanzitutto credere nel signore per poter ricevere vita eterna dobbiamo credere in lui per poter ricevere forza nei combattimenti spirituali che affrontiamo ogni giorno a chi vince dice la parola di dio io darò darò dell'albero della vita darò da sedere nella gerusalemme celeste darò a chi vince e quanti combattimenti affrontiamo ogni giorno ma non soltanto nel campo materiale problemi di lavoro cioè o familiari o malattie o altre cose ma proprio combattimenti spirituali tentazioni che si presentano sul nostro cammino dinanzi alle quali delle volte noi ci sentiamo troppo deboli per poterli affrontare tant'è che cadiamo e ci siamo vinti dalle tentazioni stesse quante volte siamo spinti a pensare o ad agire in un modo che disonora il signore abbiamo bisogno di forza e questa forza la riceviamo solo se ci nutriamo della santa e benedetta parola del signore vogliamo avere saggezza dobbiamo ricorrere alla parola di dio dobbiamo nutrirci del pane che viene dal cielo vogliamo avere una fede vigorosa dobbiamo nutrirci di quella santa e benedetta parola si nutrirsi della parola e la risposta ai problemi spirituali dell'uomo e noi ringraziamo dio perché ogni mattina ci stiamo ritrovando a leggere a meditare la parola ma questo sia un impegno quotidiano e soprattutto questo incontro mattutino sia soltanto una occasione per poter essere incoraggiati a leggere poi ognuno per conto nostro la parola di dio e ricevere ancora di più da parte del signore cerca del tempo durante il giorno per metterti da parte per isolarti come gesù faceva e leggere meditare la parola e poi pregare secondo il messaggio che dio ti avrà dato nella meditare la scrittura possa dio benedire ognuno di noi ad aiutarci ancora oggi a vivere secondo la parola di dio che dio ci accompagni durante questa giornata e che la sua presenza sia con tutti quanti noi